Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna, in direzione Roma rallentamenti per traffico intenso tra Valdarno e Arezzo. Passiamo sulla 11, precisamente sul raccordo Siena-Firenze dove a causa di lavori si segnalano rallentamenti tra Massarosa e Lucca Ovest in entrambe le direzioni. Rallentamenti per lavori anche sulla FIPILI tra Firenze-Viadotto Indiano e Scandicci in direzione Mare, rallentamenti per traffico intenso in direzione Firenze. Treni a causa della presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea ferroviaria, la circolazione sospesa all'altezza di Cascine, i convogli diretti o provenienti da Pisa potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!